Siamo con il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, questa mattina sono stati annunciati dei momenti valorizzati, dei momenti importanti relativi allo stadio Faralli che di fatto ha conosciuto la fine dei lavori. La Castiglionese sta già giocando in questo impianto che è stato rinnovato a misura d'uomo si suol dire. Sì, direi che qui siamo di fronte a un impianto che per come è stato concepito e per come è stato adeguato consentirà alla Castiglionese di svolgere un'attività agonistica di assoluto livello anche per categorie superiori, non a caso c'è anche una gradinata sul lato opposto. Quindi terminato questo impianto la rivisitazione di quelle che sono le aree sportive alla luce dei finanziamenti per la scuola prevederà il fatto che ci sarà un impianto nuovo che sostituirà di fatto il vecchio campo della spiaggina, storico campo in terra battuta e a cui si aggiunge quello che attualmente è convenzionato con la società castiglionese che è il campo sportivo della nave, il famoso campo sportivo della nave utilizzato e ristrutturato dall'Arezzo. Questo è stato un percorso molto travagliato, di fatto avete rimesso mano ad un lavoro del 1976 e poi era stato bloccato, insomma è stata una grande impresa questa sotto vari aspetti. Ma l'idea stessa che un impianto comunale era sprovvisto di requisiti minimi, di pareri negativi della commissione pubblico spettacolo risalenti al 1991, di edifici, non c'era a negare niente, che non avevano i requisiti urbanistici, erano proprio abusivi all'interno di questa struttura, obbligava l'amministrazione comunale a intervenire. Questo è stato fatto, purtroppo con ritardo rispetto a quelle che potevano essere, le nostre aspirazioni, le nostre previsioni, oggi siamo contenti che un altro edificio pubblico del Comune è in grado di poter soddisfare a tutte le esigenze e a tutti i requisiti.